Continua a scendere la curva di contagi da coronavirus in Puglia. Secondo le informazioni fornite nell'ultimo bollettino regionale, sono solo 10 nuovi casi accertati di positività al virus. Mai così pochi in un solo giorno dall'inizio della pandemia, mentre sono stati effettuati complessivamente poco meno di 1000 tamponi. Sale così a 3958 il totale degli infetti nella regione. Tre nuovi casi sono stati rilevati nelle province di Bari e Foggia, le più colpite, due in quelle di Brindisi e nella BAT, mentre non si registrano altri positivi nei territori di Lecce e Taranto. Sono sei invece le vittime accertate nelle ultime 24 ore, tutte nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto, che fanno salire a 405 il bilancio complessivo di decessi per cause legate al Covid-19. Si conferme il calo dei ricoveri, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile Nazionale e dei 2912 pazienti attualmente positivi. Sono 500 quelli che si trovano in ospedale, di cui 51 in terapia intensiva. Per tutti gli altri è tuttora sufficiente l'isolamento domiciliare. Aumentano ancora i guariti, che salgono complessivamente a 641, 29 in più rispetto all'ultimo bollettino. Ma le buone notizie non devono illudere, anzi resta alta l'attenzione per le situazioni più a rischio, come ad esempio l'esplosione di possibili focolai all'interno delle residenze per anziani. Molti degli ospiti risultati positivi sono stati trasferiti nelle strutture ospedaliere della rete Covid regionale, mentre proseguono le indagini della magistratura, per accertare eventuali responsabilità in merito alla diffusione di massa del virus nell'RSA Pugliesi, dove si sono registrati complessivamente circa 600 contagi ed oltre 50 decessi. Fare i puntati anche sul caso dell'azienda di lavorazione carne siciliana di Palo del Colle, dove è salito a 71 il numero di positivi al virus tra i dipendenti. Dal 23 aprile lo stabilimento ha sospeso le attività, mentre i lavoratori, tutti i residenti a Bari e in altri 13 comuni della provincia, si trovano in isolamento domiciliare. Intanto si lavora anche sul fronte della prevenzione. In vista della fase 2, con l'ok e gli spostamenti per chi rientra presso la propria regione di residenza, la Puglia è pronta a cautelarsi. Si sta lavorando infatti ad una nuova ordinanza per regolare gli ingressi e disporre l'isolamento fiduciario per chi arriva da altre regioni.